Su cosa si basa il ricorso per veder risolto il meno 6, la penalizzazione? Il ricorso si basa sul fatto che ci sono alcune deduzioni che sono state formalizzate. Una è che per esempio la Rezzo non ha partecipato al processo di primo grado perché nel frattempo era intervenuta la sentenza di fallimento. In seconda battuta che non è stato tenuto conto della continuazione degli illeciti perché c'era già stata una situazione di questo tipo né è stato tenuto conto del fatto che la Rezzo è in una situazione diversa da chi non ha pagato per niente, ha pagato il ritardo parzialmente e poi c'è stata tutta l'attività della squadra e della città e delle stesse istituzioni cittadine e dei curatori che sono intervenuti nel cercare di sanare questa situazione. Il ricorso è stato presentato ma ci sono dei ricorsi simili che sono stati accolti dai precedenti? Il ricorso è stato presentato e c'è già stata fissata l'udienza si discuterà il 27 aprile a luna alle 13 di pomeriggio i precedenti di questo tipo esattamente con l'esercizio provvisorio che risulta a me no, ci sono precedenti di squadre che non hanno pagato e poi erano fallite e alle quali è stata applicata la penalizzazione e punto e basta. Ma l'Arezzo potrebbe andare incontro a una nuova penalizzazione, a un nuovo o meno sei punti? L'Arezzo è già stato deferito per altri periodi di pagamenti non pagati o ritardati dei quali però non me ne occupo io perché i curatori prima di dominare me avevano già dato l'incarico ad un altro collega di Roma per cui arriverà anche per questi un nuovo processo. È stato pubblicato un bando d'asta? Che idea si è fatto? È stato forse un po' troppo fretturoso? Si poteva attendere dell'altro tempo? Onestamente non ho ben presente la cosa perché non mi sono occupato della vicenda fallimentare di sicuro però per situazioni di questo tipo il Tribunale ha dei tempi diversi da quelli della giustizia sportiva e credo che in questo caso penso che le cose siano state fatte correttamente da parte del Tribunale e degli stessi curatori che veramente si sono fatti in quattro per cercare per quanto di loro competenza di non frapporre ostacoli a questo tentativo che tutta la città ha messo in atto di non far morire l'Arezzo. Quanto riguarda il ricorso che avete presentato siete fiduciosi? Sì, se non fossi fiducioso io sarebbe un disastro anche se ovviamente siamo fiduciosi ma realisti sappiamo quali sono le situazioni in questo tipo qual è il modo di ragionare degli organi di giustizia sportiva però io ho la speranza di recuperare qualche punto per la squadra della mia città ce l'ho onesta.